Ciao e bentornati a un nuovo episodio di Colazione Fumetti. Ho un po' giù la voce, ma ci sono. Colpa del Cartoon Mix mi sa che ho urlato un po' troppo. Comunque, oggi parliamo del primo numero di Doomsday Clock. Nuova serie che sia un seguito dello storico Watchmen, che è un evento destinato a scuotere dalle fondamenta l'universo DC. 12 numeri originali, 12 numeri per la Rvue Edizioni, al prezzo alto di 4,90€. In America ne sono usciti 9 e la serie dovrebbe concludersi entro metà del 2019. Sulla versione italiana, chi lo sa, la Rvue non è proprio sinonimo di puntualità. Doomsday Clock è scritta da Geoff Johnson, che personalmente ho adorato nel suo lungo ciclo su Lanterna Verde, ed è disegnato da Gary Frank, che potreste aver visto sui vecchi numeri di Hulk, sui volumi di Super Empower, Squadroni Supremo, sulla serie Mage Midnight Nation o su Superman. Ma partiamo dall'inizio. Watchmen, uno dei fumetti più importanti di sempre, un capolavoro di Adam Moore e Dave Gibson, anche trasposto nell'omonimo film. Se non l'avete letto, dovete farlo. No, seriamente, se non l'avete letto, cercatelo online, in fumetteria o dove vi pare. Ho visto su Amazon che al momento non pare esistere una versione italiana in vendita. Per Watchmen vi scuso addirittura se andate a leggervelo in scan, ma solo se davvero, davvero non potete permettervelo, o se davvero, davvero non lo trovate, cosa che è piuttosto plausibile al momento. Ma prima di cominciare, una piccola puntualizzazione. Per come la vedo io, Watchmen è un capolavoro, ma non penso che prequel o sequel, belli o brutti che siano, possano in alcun modo rovinare un'opera originale. Più in generale, se non vi piace un sequel di un'opera che avete amato, c'è una reazione molto più semplice di arrabbiarsi e andare a sbrettare online. Semplicemente, ignorare la novità. Nessuno può obbligarvi ad accettarla. Figuratevi che per me Pietro e Wanda, Quicksilver e Scarlett Witch, sono tuttora i figli di Magneto, nonostante questa cosa sia stata retconnata in Marvel. In ogni caso, parliamo di Doomsday Clock, che ci porta nel mondo di Watchmen, sette anni dopo la fine della serie, dove Gaff Jones ci guida attraverso una società sull'orlo dell'abisso, in una storia decisamente appassionante, interessante e anche un filino angosciante. Dal punto di vista grafico, ho apprezzato tantissimo la scelta di rifarsi allo stile delle pagine della serie originale, che si basavano su una griglia a nove vignette. Allo stesso modo viene addirittura ripresa la stessa impostazione per la pagina del titolo, con una vignetta principale con sotto il titolo ed è una terza linea verticale di quattro vignette. Addirittura il titolo dell'episodio di Doomsday Watch corrisponde come numero di pagina a quello del primo episodio di Watchmen. Molto molto d'effetto come cosa. Anche per i nuovi personaggi si segue la strada tracciata dalla serie madre, che, non tutti lo sanno, inizialmente sarebbero dovuti essere i supereroi dell'universo narrativo delle serie Charlton Comics, che, dopo essere stati acquistati dalla DC, popolavano il mondo conosciuto come Terra Quattro. Poi si cambiò idea e si decide di rendere Watchmen indipendente. Così Night Owl prese il posto di Blue Beetle, Rorschach quelle di Question, il Dottor Manhattan quelle di Atom e così via. Da qui vi avverto che vado a fare qualche spoiler. Se volete prima leggere il fumetto, io vi suggerisco di farlo. Questo numero mi è piaciuto e quindi lo approvo. Se l'avete già letto, o comunque non pensate di farlo, continuiamo. Se alla fine di Watchmen il mondo sembrava salvo dalla minaccia nucleare, grazie ai piani di Ozymandias, il diario di Rorschach, che gli era sopravvissuto ed era stato trovato in una redazione, ha rivelato il suo inganno, rivelando al mondo che non esistevano extraterrestri, ma che era stato lui a uccidere milioni di cittadini new yorkesi. Ma questo ha reso la situazione ancora peggiore. E oggi, con la distruzione atomica imminente, un nuovo Rorschach si introduce in un carcere e libera due criminali, la marionetta e Mimo, e pigoni di Jowely e Punch, due criminali innamorati, vestiti da clown. E se vi ricordano il Joker e Harley Quinn, sappiate che questa coppia esiste da ben prima, fin dagli anni 60, mentre Harley Quinn è apparsa soltanto durante i 90. Scopriremo poi che a guidare Rorschach, è Ozymandias, malato di cancro, e convinto che la marionetta possa aiutarlo a ritrovare il Dottor Manhattan, immagino con lo scopo di salvare di nuovo il mondo. Ma nel frattempo, nell'universo DC, Superman sogna la morte dei suoi genitori, che nell'universo post-Flashpoint, è accaduta quando era ancora giovane, a causa di un incidente d'auto. La cosa strana è che Superman normalmente non ha incubi, ma immagino che per scoprire come le due cose sono collegate, dovremo leggere i prossimi numeri. In ogni caso, già sappiamo qualcosa, ovvero che a causare la nascita dell'attuale universo DC, durante l'evento Flashpoint, appunto, è stato proprio il Dottor Manhattan. Con questo direi che è tutto. Personalmente vi consiglio l'acquisto, nonostante il prezzo sia purtroppo un po' altino, sia per via degli autori, sia perché questo è un tassello fondamentale dell'universo DC. In ogni caso, presumo che una versione in volume sarà sicuramente stampata una volta conclusa la serie, quindi se vi va di aspettare, io di mio cercherò di tenervi aggiornati numero per numero. Ciao! Vi ringrazio di aver seguito il video, vi chiedo di lasciare un commento, iscrivervi al canale, fatemi sapere se state leggendo questo fumetto. Come sempre vi ricordo che c'è la pagina Instagram at pelati fumetti, in cui tento di tenervi aggiornati. E quindi, ci vediamo al prossimo video.